Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con i canzatori più forti della storia, i 10. Ripeto, questa classifica non l'ho fatta io come nello scorso video perché, boh, se no non l'avrei fatta. Bene, al decimo posto Puskas, o Puskas, non so come si lega, scusate. Al nono Marco Van Basten, otto Alfredo Di Stefano, sette Zinedine Zidane, sei Lionel Messi, cinque Cristiano Ronaldo in questa classifica, pensate. Al quarto, Frenza Tonbeck, no, non lo conosco. E al terzo posto, Joan Cruyff, al sesto posto, Michael Platini, e al primo posto, pari merito, Pelé e il nostro mitico Diego Armando Maratona. Ok raga, mettete un bel like e noi ci rivecchiamo in un prossimo video, mi raccomando, salitevi su TikTok, se mi più fa 11, e edit calcio, trattino basso, 0,5, 0, ciao!